Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari, studio Silvia De Sandi, giunta composta per la metà da donne, taglio del 50% dei costi dei consigli di amministrazione delle municipalizzate, un giorno a settimana dedicato al ricevimento dei cittadini a Palazzo di Città. E ancora raddoppio della vigilanza Pane Pomodoro e Torre Quetta e un nuovo regolamento per affidare gli edifici dismessi per tre anni gratis ad associazioni di giovani. Sono 5 delle 10 idee che il candidato sindaco di centro-sinistra Antonio De Caro promette di realizzare nei primi 100 giorni di mandato da primo cittadino. Abbiamo distribuito casa per casa i cittadini baresi il volantino, ha spiegato De Caro, affinché abbiano la possibilità di monitorare e verificare le promesse mantenute nei tempi annunciati. Aperitivo della legalità con Gianni Alemanno, questa mattina al Caffè Maxim sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, bene confiscato alla mafia. Un momento per fare il punto sulle condizioni e i problemi di Santo Spirito. Presenti il portavoce regionale di Fratelli d'Italia A.N. Marcello Gemmato, il candidato vice sindaco Filippo Melchiorre, il candidato alle europee Giuseppe Gallo, il candidato al comune Tobia Ricanelli e il candidato presidente del quinto municipio Nicola De Matteo. Cura delle strade cittadine e migliore viabilità in pole position nella lista dei desideri dei cittadini baresi prossimi al voto. Le richieste sempre più puntuali e circostanziate sono rivolte al prossimo sindaco di Bari. Sentiamo il nostro sondaggio. Cosa chiederebbe al prossimo sindaco? Quali le tre priorità per la città di Bari? Di aggiustare un po' qualche cosa, perché il vecchio non ha fatto nulla. Banalmente dico le strade, perché effettivamente non si può camminare con queste strade. E vabbè, la prima l'ho detta. La seconda da commerciante è organizzare un po' meglio il centro, ovvero intanto una cosa facile è rendere anche un po' meno stile, perché chi viene adesso con la macchina, a parte i soliti problemi di garage, cioè vabbè, si sanno, bisogna anche combattere contro i vigili, contro le molte. Anzitutto di mettere ordine, va bene. Poi pulizia, queste sono le due priorità. La viabilità prima di tutto, perché da quando è stata chiusa via di giro al traffico, lo spostarsi è diventato un vero problema. Soprattutto in periodo estivo, in cui molto spesso capita che viene chiuso anche il lungomare, non so, chiaramente chi frequenta il centro, ha diversi problemi nello spostarsi. La pulizia delle strade, la sicurezza, la sicurezza manca in pratica a Bari, e poi forse più iniziative dal punto di vista per i giovani, anche per gli anziani. Perché io, sinceramente, adesso vengo da Via Napoli, dove è passato il giro d'Italia, hanno fatto la critica, giustamente non si può, assolutamente. Penso alla macchina, penso alle bici, quella è la prima cosa. E poi, vabbè, altri problemi. E' l'utile che li stiamo ad elencare, perché sono tanti. Posso fare a lei la stessa domanda? Una, sicuramente, rivitalizzare il murattiano e il commercio, anche perché, giustamente, è quello che faccio. In più, è una città basata sul piccolo commercio e sui piccoli imprenditori. E, di conseguenza, smuovere quello che sta succedendo, almeno in città, nel centro murattiano. Come seconda priorità, posti di lavoro per i giovani, perché non è normale che un ragazzo a Bari debba scappare per trovare un posto di lavoro, e debba andare fuori. Esperienze di donne a confronto ieri con la candidata alla presidenza del primo municipio, Micaela Paparella, un'occasione per capire se Bari sia a misura di donna. Noi l'abbiamo intervistata. L'unica donna candidata per il centro-sinistra alla presidenza dei municipi, insomma, sarà una bella bandiera da portare avanti. A questo punto colgo l'occasione per chiederle se Bari si può considerare una città a misura di donna. Sì, prima di tutto devo dire che è una doppia responsabilità. Appunto, come unica donna candidata alla presidenza del municipio, uno che poi è il più importante e più rappresentativo della città, appunto, mi sento molto responsabile per questo. Allora, sicuramente Bari non è una città che coccola più di tanto le donne. Sarà necessario prendere una serie di misure per poter migliorare e facilitare sicuramente la vita delle donne, delle mamme, delle mamme che lavorano in particolare. All'orizzonte c'è già qualche idea al sostegno delle donne ed è un progetto ancora in fase embrionale, da vedere se si potrà realizzare, però c'è già un'idea, che è quella di istituire una casa delle donne sempre nel primo municipio. Sì, c'è questo progetto, ne stiamo parlando con l'assessore Titi De Simone, ovviamente l'ultima parola ce l'avrà sempre il sindaco, però appunto stiamo considerando la possibilità di aprire una casa delle donne in uno degli immobili in disuso di proprietà del comune. Autorecupero Socrate è il nome del progetto di riqualificazione dell'ex liceo di Via Fanelli occupato da anni da un gruppo di migranti. Questa mattina la sigla del protocollo d'intesa ce ne parla Serena Russo. Un cantiere scuola sperimentale di autorecupero parziale, ossia un processo di riqualificazione dell'immobile attraverso il coinvolgimento diretto di coloro che lo abitano già da tempo, sia nella fase progettuale che in quella esecutiva. È l'oggetto del protocollo d'intesa siglato stamani tra Regione Puglia, Comune di Bari, IACP Formedi, il Politecnico e Associazione Ingegneria Senza Frontiere. Immobile beneficiario, l'ex Socrate, occupato ormai da anni da un gruppo composto per la maggior parte di senegalesi, tutti rifugiati politici. Un punto fermo, quello di stamattina, in una storia lunga e travagliata, fatta di giorni e notti senza acqua e senza luce, problemi giunti, speriamo, al capolinea. Tra il pubblico, oltre ai migranti, anche ai ragazzi del collettivo, rivoltiamo la precarietà, da sempre in prima linea e più di tutti, in questa battaglia per una casa. Tra i punti del protocollo, la messa in sicurezza dell'edificio e la promessa di un supporto nell'elaborazione di idee progettuali finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti, poi per il complessivo. Una prima risposta alla piaga dei senza dimora, alla luce delle ultime proteste per mancanza di postiletto all'interno del cara di Palese. Abbiamo tanti immobili disuso, ha commentato Albasasso, assessore regionale, ricollegandosi al discorso del ministro per la difesa, Roberta Pinotti, ieri a Bari. E quella dell'uso sociale, ha concluso l'assessore, senza dubbio la migliore soluzione. Rispetto delle persone, bisogni e diritti degli anziani, sono i temi al centro dell'ottavo congresso regionale, Wil pensionati di Bari e di Puglia. Una battaglia culturale, come l'ha definita il segretario generale Wilp, Rocco Matarozzo, in un momento in cui esistono poche soluzioni ai problemi delle famiglie, dei giovani, ma soprattutto delle persone che necessitano di aiuti. Gli anziani e i pensionati, continua Matarozzo, sono il più grande degli ammortizzatori sociali, hanno dato ospitalità ed asilo ai figli rimasti senza lavoro e alle loro famiglie. Il design tra tradizione e innovazione è il tema del primo workshop organizzato alla Camera di Commercio di Bari in occasione dei Puglia Design Days, il servizio di Barbara Cirillo. D2B, design to business, un corto circuito virtuoso tra designers e aziende. Finalmente la prima edizione di un festival tutto dedicato al design, un mondo ricco di sorprese, diventato ormai di importanza fondamentale per tutti i settori commerciali e aziendali, viste le potenzialità creative e produttive. Dall'arredamento al tessile, tutto inizio dalla storia dell'arte, dalle teorie e gli artisti che hanno scritto la storia come quelle di Bruno Munari. E interagire con i materiali è ormai diventato fondamentale per un designer, tanto che non c'è rendering che tenga a confronto con la matericità. Esatto questo è il tema del primo workshop dei Puglia Design Days, tenutosi alla Camera di Commercio. Una delle relatrici è stata Rossana Carullo, professoressa di disegno industriale al Politecnico di Bari. Credo che questa operazione di consapevolezza delle proprie potenzialità sia in assoluto la prima che deve essere fatta, perché è un'operazione soprattutto di pensiero, noi l'abbiamo definita design thinking, come capacità di capire cosa si può ottenere, in che cosa si può nivare su quello che noi già possediamo. Ieri sera al Teatro Petruzzelli è andata in scena la prima dei Pagliacci, opera lirica composta e scritta da Ruggero Leoncavallo e diretta da Marco Bellocchio. Il nostro servizio. Il teatro nel teatro, il teatro nella vita, così le due dimensioni si mischiano in un fluire di bel canto nei pagliacci diretti da Marco Bellocchio e lo sguardo fino del regista si è percepito dall'inizio della recita, perché sul palco a prendere vita non erano solo gli straordinari interpreti, bensì anche le scenografie. Nessun segreto dietro le quinte, gli artisti, una volta abbandonata la scena, si ritiravano nelle loro case da contadini e tutto quello che vi accadeva era mostrato al pubblico attraverso telecamere interne. La realtà ha preso a vivere sul palco del Petruzzelli con una delle opere liriche italiane più famose al mondo, composte da Ruggero Leoncavallo e basata su un fatto realmente accaduto in un paesino della Calabria alla fine del secolo scorso e il cui processo per un sorricidio fu seguito dal padre del compositore in veste di magistrato. Pagliacci capaci di ridere e di deridere senza mai smettere di prendere sul serio se stessi. Ridi pagliaccio sul tuo amore infranto, perché i pagliacci hanno l'obbligo morale di ridere sempre nonostante il dolore che lacera l'anima. Ridere perché la vita e il teatro non sono la stessa cosa. Una serata di raccolta fondi a favore del progetto Momo dell'Associazione Dergarten, a favore di persone affette da disagio psichico e sociale. La Rotonda è il nome dello spettacolo tenutosi ieri sera al Teatro Forma. La performance teatrale scritta dalla psicologa e psicodrammatista Gioia Monica Guglielmi in collaborazione con i volontari La Piccola Momo è stata diretta dal regista Francesco Brollo. La serata è stata inoltre aglietata dalle note suonate dal pianista Mirko Signorile. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. C'è lo sereno, temperature comprese tra 16 e 24 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net, info, chiocciola, ilsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui. Grazie per averci seguito più tardi con informazioni di Telebari. Grazie per aver guardato il video.